Il FAMI ha l'obiettivo di rafforzare e sviluppare il sistema europeo di asilo, migliorare le condizioni di accoglienza e favorire il reinsediamento dei titolari di protezione internazionale. Abbiamo finanziato 180 progetti di asilo, impegnando il 99,2% delle risorse disponibili. Abbiamo assistito i titolari di protezione internazionale garantendo forme di accompagnamento mirate all'inserimento socio-economico. Abbiamo accolto i minori stranieri non accompagnati nei centri di accoglienza. Abbiamo creato un sistema integrato per monitorare l'attività dei centri di accoglienza. Presso i luoghi di sbarco abbiamo fornito informazioni ed assistenza a molte persone, fra cui le vittime di tratta. Sono interventi molto delicati, per questo abbiamo formato gli operatori. Abbiamo facilitato la connessione tra accoglienza e sistema sanitario per i soggetti vulnerabili. Abbiamo formato gli operatori delle commissioni territoriali per l'asilo, al fine di migliorare l'iter di riconoscimento della protezione.